La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza d'appello sulle dispersioni di carbone dalla centrale termoelettrica Enel di Cerano a Brindisi con rinvio ad altra Corte per valutare i ricorsi degli imputati e dell'amministrazione provinciale che oltre al risarcimento ottenuto per danno di immagine e alla salute chiede anche il danno ambientale. E quanto contenuto nel dispositivo depositato la scorsa notte dopo una lunghissima Camera di Consiglio si dovrà quasi interamente rifare insomma il processo di secondo grado. La Procura Generale nel corso dell'udienza di giovedì aveva chiesto l'inammissibilità di tutti i ricorsi. In appello il processo si era concluso con la conferma delle due condanne inflitte in primo grado ai manager Enel e con l'estensione dei risarcimento dovuti dall'azienda, quale responsabile civile, anche ad altri agricoltori proprietari di terreni vicini al nastro trasportatore della centrale Federico II. Per Antonino Ascione e Calogero Sanfilippo era stata confermata una pena di nove mesi di reclusione, a entrambi era stata concessa la sospensione condizionale. Per altri due, Sandro Valeri e Luciano Mirco Pistillo, i reati si erano già prescritti e quindi c'era stata sentenza di non doversi procedere. 15 in tutto gli imputati, 11 erano stati assolti in primo grado con la formula il fatto non sussiste. Due i reati contestati, getto pericoloso di cose e danneggiamento aggravato. Al centro dell'inchiesta della Digos di Brindisi, coordinata dal PM Giuseppe De Nozza, la diffusione di carbone dal nastro trasportatore e dal carbonile dell'impianto sui terreni degli agricoltori vicini. Il parco carbone è stato poi coperto con una tecnologica struttura in legno. La centrale, in un'ottica di decarbonizzazione, va ora verso la riconversione a gas. La centrale, in un'ottica di decarbonizzazione, va ora verso la riconversione a gas. La centrale, in un'ottica di decarbonizzazione, va ora verso la riconversione a gas. Grazie. Grazie.